Colpo di scena sull'omicidio di Sabrina Beccalli non sono di un cane ma umani e quindi sono con tutta probabilità quel che rimaneva del corpo carbonizzato di Sabrina Beccalli i resti trovati nell'autobruciata della 39enne scomparsa a Crema lo scorso 15 agosto. La svolta nelle indagini sulla vicenda è arrivata al termine delle prime analisi eseguite all'Istituto di Medicina Legale di Milano dalle anatomopatologhe Cristina Cattaneo e Deborah Mazzarelli incaricate dal sostituto procuratore della Repubblica di Cremona Lisa Saccaro di eseguire la perizia su una trentina di piccole ossa e lembi di tessuto. Nelle prossime ore verrà effettuato anche l'esame del DNA per stabilire con certezza che Sabrina è morta bruciata nella sua Fiat Panda. Resta da capire se è uccisa da Alessandro Pasini come sostengono gli inquirenti che accusano il 45enne di omicidio e distruzione di cadavere o invece in seguito ad overdose come ha sempre raccontato la difesa dell'indagato in carcere a Monza. Pasini aveva infatti riferito di aver bruciato il cadavere di Sabrina con l'auto. La donna stando alle sue dichiarazioni sarebbe morta di overdose e lui avrebbe dato alle fiamme l'auto con il suo cadavere dentro. Per la procura invece sarebbe stato lui ad ucciderla nell'appartamento della sua ex dove i due si erano incontrati per consumare droga, forse dopo un'avan sessuale respinta. Serviranno comunque ulteriori accertamenti. I risultati definitivi dei rilievi si avranno solo nei prossimi giorni. Lunedì 14 settembre il pool dei consulenti della procura di Cremona e i consulenti delle parti si troveranno uffanengo nell'officina dove è stata ricoverata la panda bruciata.